L'amministrazione quest'anno ha pensato di produrre un documento, un piano dell'offerta formativa, proprio per promuovere le diverse attività che vengono svolte all'interno del nido, ma soprattutto per condividere insieme ai genitori, che sono gli utenti dei nostri servizi insieme ai loro bambini, tutta una serie di informazioni ma anche di esperienze, perché c'è un aspetto teorico ma anche un aspetto pratico, strumentale, sperimentale. Quello che intendo dire è che nei nostri nidi, che sono nidi assolutamente di qualità, c'è del personale che è molto preparato, segue dei corsi specifici e dei corsi omogenei su tutti quanti i nidi, quindi gli stessi corsi che vengono fatti dagli educatori del nostro nido girasole, vengono fatti anche dagli educatori degli altri nidi, gestiti da una cooperativa, ma anche una qualità relativamente al progetto educativo. Sotto questo aspetto il bambino viene posto al centro, il bambino è protagonista della sua crescita e del suo apprendimento. inoltre il bambino viene considerato un soggetto di diritti, come per esempio il diritto di potersi sporcare giocando, il diritto di potersi recare in ambienti esterni e di fare esperienze, tra virgolette rischiose. Ecco questa è un pochino la novità assoluta di questo piano di offerta formativa e cioè abbiamo introdotto una novità che precedentemente non esisteva ancora nei nostri nidi, un progetto che si chiama Equilibri in Natura. Questo progetto prevede la creazione di piccole aree verdi esterne ai nidi, aree che già c'erano, ma che verranno incrementate e strutturate come piccoli parchi, quindi anche con l'utilizzo di elementi naturali come possono essere sassi, dei tronchi d'albero, delle siepi, delle piante aromatiche, dove i bambini possano liberamente giocare senza dover percorrere percorsi precostituiti, quindi dove il bambino è libero di esprimersi come vuole. Credo che l'educazione al rischio sia assolutamente una novità ed una strada percorribile perché riteniamo che il bambino non debba rimanere all'interno di una campana di vetro, ma debba potersi sperimentare. Ecco, l'importante è la condivisione.